Perché la protezione civile non ha messo in atto degli interventi subito dopo il senso? Allora, ho risposto a questa domanda specificando una cosa relativamente alla lettera che ha risposto il comitato. La protezione civile non è l'ente gestore del territorio, quindi non è la polestà, l'ente gestore del territorio è la polestà. Noi veniamo a chiamarli quando succede un disastro e poi si vuole che vi faccio un gioco a cinque giorni e risolviamo tutto. E allora, questa è la impostazione che ovviamente è assolutamente... E ora, io ho vissuto Ciampiglieri, è una situazione perfettamente analogica a Ciampiglieri. Io camminavo sui morti il primo di ottobre del 2009, qua io mi sono sentito felice di non aver visto il morto. C'è una situazione morta che aveva qualcosa, eh? Sì, certo. Anche noi? È stato mirato, sono stato mirato. E' stato mirato! Giudinei, però, Giudinei, lei può ben capire che lei mi dice sì... Non è arrivato niente, però se lo sanno tutti gli assessorati.